Che ne pensa uno del PD dall'esterno su questa provincia di Campobasso, ma più in generale, di tanti cambiamenti che ci sono stati non più di un mese fa? C'è un periodo di innovazione, di instabilità, di riassestamento del quadro politico, sia a livello nazionale che regionale. Non vorrei far trasparire che questa sorta di riallocazione delle forze fosse una vicenda soltanto molisana. Ricordo che ormai c'è la disgregazione del centro-destra a livello nazionale, il PDL sostanzialmente è in crisi e in difficoltà, nel nord è costretto ad allearsi con Maroni che dice che il 75% delle tasse ai Lombardi devono farle rimanere lì e addirittura vogliono battere moneta facendo una macro-regione con il Veneto e Piemonte. Nel sud si sono alleati con i fascisti di Storace, con Grande Sud e altri movimenti, meridionalisti locali contro il nord. In giro per l'Italia il PDL ormai non ha più quella attrazione, quella capacità di coesione e il centro-destra è stato costretto anche a moltiplicare le forze, inventandosi una sorta di spezzatino. Pensiamo ad esempio a Fratelli d'Italia, un partitino che viene dato all'1% che è nato da una costola del PDL, quando vedo alcuni ex assessori regionali che addirittura si misurano, si cimentano come se fossero all'interno di una formazione con il 10, il 20, il 30% dei voti, questo dà il senso di una crisi del centro-destra. Questa crisi è ancora più forte e accentuata in Molise perché in Molise ci sta una parte che Tommaso Di Domenico chiamava il centro mobile che si sposta a seconda di dove soffia il vento. Nulla di nuovo sotto il sole, si faceva già nelle vecchie correnti della democrazia cristiana, si fa ancora di più in questa fase che è una fase molto fluida dove le appartenenze e le identità sono merci abbastanza rare. Petra Roia, amareggia che non avete insomma combinato con l'Udc? O insomma dice già ne abbiamo nove di liste, siamo più che abbondanti? Ma il centro-sinistra ha fatto un percorso lineare, lo scorso anno ha svolto le primarie, c'è stato un vingitore delle primarie, si è costruito un programma, le elezioni dello scorso anno sono state annullate prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, le stesse vicende sono accadute, lo voglio ricordare per correttezza nei confronti dell'onorevole Giovanni di Stasi nel 2001 quando un cittadino qualunque, non so come cittadino elettore, fece un ricorso, mancavano 20 firme all'ora della lista dell'Udeur e Giovanni di Stasi che era il Presidente della Regione che aveva vinto regolarmente le elezioni venne mandato a casa, quindi i pronunciamenti sono stati rispettati all'ora e credo che debbano essere rispettati anche adesso. Il programma del centrosinistra è stato un programma aperto, ci sono svolte una serie di confronti, alla fine hanno aderito una serie di aggregazioni, voglio ricordare sei partiti, quindi c'è tutto il centrosinistra e tre movimenti civici, qualcuno ha fatto altre scelte che meritano di essere rispettate, poi saranno gli elettori a stabilire chi vincerà e chi perderà le elezioni. Per quanto riguarda l'Udc, fermo restanto l'autonomia di quella formazione politica che rispetto esattamente come altre formazioni politiche, io voglio qui ricordare, mi permetto di fare questo rilievo semplicemente perché ho considerazione dell'Udc che a livello nazionale c'è un problema politico nei confronti di Berlusconi, in questi giorni le dichiarazioni che rilascia l'onorevole Casini e altri leader nazionali dell'Udc sono di preoccupazione e di allarme che sono state rilanciate anche dalla stampa internazionale circa il fatto che Berlusconi possa rivincere le elezioni in Italia. Quindi con Monti hanno fatto una netta separazione e hanno quasi allertato gli italiani, state attenti che Berlusconi può determinare una sorta di difficoltà proprio in termini di credibilità di gestione dei moderati, c'è una corsa che il Partito Popolare Europeo ha individuato in Monti, attraverso dichiarazioni pubbliche e quindi nel nuovo raggruppamento di cui l'Udc è parte saliente, il proprio riferimento moderato, come a dire Berlusconi è superato. Un ragionamento di questa nettezza politica che ha portato l'Udc sia nel Lazio sia in Lombardia a fare altre scelte per le regionali, quando si arriva in Molise quello che in Italia vale e in questo territorio non vale e che questa cosa possa in qualche modo rimanendo a Montenero di Bisaccia, allo stesso cognome di Pietro, avere una interpretazione similare nel campo del centro-sinistra, nulla toglie al fatto della spaccatura dei moderati a livello nazionale con Monti e Casini da una parte che dicono siamo noi il Partito Popolare Europeo, non è Berlusconi che si allea con i fascisti di Storace e con i xenofobi della Lega Nord a Milano. Petraroe, ripartiamo con questo giro di domande, qual è l'idea programmatica di quello che vuole fare il PD, la coalizione, il centro-sinistra a livello regionale? Io credo che gli spunti programmatici noi li abbiamo presentati ai cittadini già lo scorso anno, poi abbiamo rimodulato e implementato quel programma anche attraverso questo anno di lavoro in Consiglio regionale e la prima cosa che bisogna fare è cercare di girare pagina, non intendiamo avanzare promesse irrealizzabili, sappiamo che qui i problemi che si sono affastellati nel corso degli anni sono molto complessi, noi abbiamo una vicenda dei settori produttivi che veramente è allarmante e su questo invito tutte le forze politiche a cercare di recuperare un clima anche di coesione, anche con le rappresentanze delle imprese e con le rappresentanze del mondo del lavoro. Abbiamo sperimentato pure nel corso di quest'anno in seconda commissione il modello della concertazione, abbiamo chiamato le imprese del settore dell'edilizia, ma anche quelle del commercio, quelle dell'artigianato, il mondo dell'agricoltura, della cooperazione, abbiamo provato in sei mesi a predisporre uno schema che è uno schema non soltanto di una ricognizione di qual è oggi lo stato dell'arte in questi settori produttivi e occupazionali, ma anche di individuare delle soluzioni possibili sapendo che sono stati ridotti i trasferimenti nazionali. Le cose che diceva prima il Presidente della provincia riguardano non soltanto l'amministrazione provinciale, anche l'amministrazione regionale, riguardano le amministrazioni comunali, soltanto qualche anno fa lo Stato metteva in bilancio 2 miliardi e mezzo di Euro per le politiche sociali, adesso sono rimaste poche centinaia di milioni per tutto il territorio nazionale, quindi c'è necessità di rivedere anche la macchina amministrativa, ridisegnare il modello istituzionale. Noi tra un mese avremo la scadenza dei 90 giorni per la promulgazione del nuovo Statuto della Regione Molise, poi bisognerà riscrivere il regolamento interno rispetto all'attuazione del nuovo Statuto che finalmente dopo oltre 40 anni è stato varato nel corso dell'ultima legislatura, ma poi bisognerà mettere mano proprio a un ridisegno superando gli enti subregionali, cercando di accorpare, semplificare per ridurre il peso della burocrazia e riorientare una parte della spesa pubblica sul lavoro, perché la prima emergenza è quella del lavoro e magari anche immaginare di avere un assessore al lavoro. Credo che una delle cose più brutte che sono accadute nel corso di quest'ultimo anno è che noi abbiamo avuto assegnati 10 milioni di Euro di ammortizzatori in deroga per tutti quei settori che non ne avevano diritto e il governo ce ne ha sostanzialmente recuperati 5 milioni perché noi non li abbiamo impegnati e un settore importante come quello dell'edilizia che ha oltre 9 mila occupati e tanti di quei lavoratori purtroppo non hanno raggiunto il minimo delle giornate per poter accedere alla disoccupazione speciale, quindi abbiamo avuto lavoratori che potevano prendere dei soldi e non li hanno presi e questi soldi che non sono stati impegnati. Allora per i settori produttivi c'è proprio bisogno di immaginare un rilancio. Il contratto di sviluppo con la ITR, al di là delle polemiche, noi dobbiamo cercare di abbassare un po' i toni ed essere più concreti e operativi per dare risposte a 712 dipendenti, è un anno che sta al Ministero dell'Industria. Io credo che il Presidente Iorio che è anche Vice Presidente della Conferenza Stato-Regione ha avuto tutto il tempo per parlare con il Ministro Corrado Passera perché o quel progetto si approvava o non si approvava. Noi non possiamo arrivare dopo un anno, l'imprenditore l'ha detto che se non c'era quell'investimento non era in grado di poter mantenere tutti quanti gli occupati. Oggi dobbiamo riprendere da lì la filiera bieticolo-saccarifera, noi non possiamo immaginare di rilanciarla soltanto come Molise, anche perché il Molise ha soltanto poche centinaia di etteri di bietole seminate, migliaia di etteri stanno in buia in altre regioni, ci serve un accordo col governo e con le altre regioni. La più grande filiera vicola del mezzogiorno sta in Molise, ma anche lì occorre una politica a livello nazionale e un accordo col governo, perciò è importante che a livello nazionale vince Bersani, il Partito Democratico avrà l'80% dei ministri. I nuovi equilibri politici, al di là di queste schermaglie sui piccoli partitini locali, le liste civiche, i cartelli un po' dei fichi d'India di paese che si sono presentati e che lasciano il tempo che trovano. Per questo avete fatto prendere la tessera a frattura del PD, perché dice un Presidente poi dovesse vincere. Non credo che qualcuno possa indurre altri a prendere la tessera, io credo che se Frattura ha optato per aderire al PD si sarà convinto che un partito che oggi viene dato al 34%, che esprimerà il capo del governo, l'80% dei ministri, nel Parlamento si eleggerà il capo dello Stato, io credo che quella è la formazione politica di riferimento e il PD nel centro-sinistra regionale potrà tentare di andare per esempio a Roma, parlare con il nuovo Ministro della Sanità e il nuovo Ministro del Tesoro perché il nuovo piano sanitario non si iscrive in Molise, si iscriverà a Roma, con il Ministro dei Trasporti perché il contratto di servizio delle ferrovie, 17 milioni di Euro l'anno e i treni non funzionano, devi andare a discutere a Roma, allora serva a ricostruire in maniera concreta una capacità di dialogo in Molise con le imprese e i sindacati, toni più bassi anche tra le forze politiche, meno denunce, meno querele, meno urla, più concretezza e più rispetto anche dei disagi delle famiglie, dei problemi che hanno le piccole imprese, quando un giovane a Porto Canone arriva a togliersi la vita, ma quanti sono coloro che vanno alla fondazione anti-usura che sta presso la prefettura di Campobasso, quanta gente sta andando alla Caritas? E allora se questi sono i problemi, la politica non può rispondere con gli slogan o con le urla, deve cercare di abbassare i toni, dialogare e dare risposte concrete. D'accordo, grazie. Se Petraroia vuole 30 secondi, lo vuole applica. No, no, voglio semplicemente puntualizzare, altrimenti si ragiona degli argomenti così, in maniera astratta. Il 30 marzo 2007 abbiamo fatto un piano di rientro tra la regione Molise e il governo nazionale. In base a quel piano di rientro dai debiti della sanità ci sono stati erogati dal governo Prodi, dal ministro Livia Turca, 405 milioni di euro che hanno significato dei debiti al 31 dicembre del 2005. Poiché il piano di rientro non ha consentito di poter ripareggiare le esposizioni debitorie, il 29 luglio del 2009 il governo ha nominato Michele Iorio commissario ad acta della sanità, poi ha affiancato prima un subcommissario Lamastro Buono, poi un altro subcommissario Morlacco e infine un altro subcommissario ancora Rosato. Poiché non si è raggiunto comunque il pareggio di bilancio, il 7 giugno del 2012 il Consiglio dei Ministri, unica regione d'Italia, ha commissariato il commissario nominando Basso. Oggi in base alla legge, non in base a quello che dice Michele Petreroia, il Consiglio dei Ministri per il tramite del Ministro del Tesoro e del Ministro della Sanità ha la facoltà di validare il piano sanitario del Molise. Questa cosa accade però perché il governo regionale di centro-destra guidato da Iorio che dal 2009 al 2012 è stato commissario ad acta non è stato in grado di poter star dentro gli obiettivi del piano di rientro. Quindi oggi la norma consegna nelle mani del governo centrale. Per quello che mi riguarda da consigliere regionale ho fatto approvare una mozione il 31 luglio in Consiglio regionale all'unanimità in cui è passato che si rivendicava comunque la titolarità del Consiglio regionale di poter dialogare rispetto ai contenuti del piano sanitario che spetta al commissario ad acta.